La digital transformation per le aziende è una questione estremamente importante perché permette alle aziende di rimanere efficienti in un mercato ipercompetitivo. La trasformazione digitale infatti consente di risparmiare in tempi, in costi e ad esempio con la tecnologia dei chatbot è possibile sostituire le persone con degli androidi che quindi permettono ai dipendenti di concentrarsi soltanto sui compiti estremamente necessari per il proprio lavoro.